Ma sappiamo che sarà una mancanza importante perché lui è stato un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio in generale, è stato un vero capitano e quindi è normale che mancherà un punto di riferimento. Però questa sua partenza dovrà responsabilizzare un po' più tutti, cioè noi dobbiamo cercare di dare un po' più di quello che abbiamo dato fino adesso sia in campo che anche a livello comportamentale nello spogliatoio perché non abbiamo un punto di riferimento. Quindi penso però che abbiamo la capacità comunque di continuare a fare un buon campionato pur la mancanza di un giocatore con dei valori importanti come era Massimo. Sì sì no sicuramente, poi se la scelta del mister cadrà su di me a livello di zona del campo basso dovrò essere io a cercare di prendere più responsabilità possibile. Però come detto prima poi chi giocherà in quel ruolo il mister ha possibilità di scelta e quindi penso ma siamo convinti che comunque riusciremo a continuare a far bene. Ma loro non meritano secondo me la classifica che hanno, è una squadra di esperienza perché comunque giocatori che hanno fatto sempre diciamo questa categoria e vengono anche da un secondo me un buon momento non a livello proprio di risultati ma comunque di prestazioni. Quindi sarà una partita da non tenere sott'occhio, sarà una partita come tutte difficile ma più che all'avversario noi dobbiamo pensare a noi perché siamo sulla buona strada, su un rendimento abbastanza buono e dobbiamo solo cercare di continuare a fare le nostre giocate e cercare di mettere il più possibile in difficoltà. Noi abbiamo fatto un patto tra virgolette quando abbiamo avuto quei giorni liberi, natalizi, così quando siamo ritornati abbiamo parlato molto tra di noi e abbiamo, cioè ci siamo fatti, ci siamo detti che comunque abbiamo fatto troppi errori il giorno dell'andata e il giorno di ritorno deve essere una sorta di rivincita sia per noi, per quello che dobbiamo alla città, a questa piazza così importante quindi penso che la volontà nostra è quella di dimostrare il nostro valore e di vincere il più possibile in casa perché in casa è il nostro territorio, dovrebbe essere il nostro fortino.